C'è poco da dire, gli uomini dell'OEA sono stati più forti di noi, però ci siamo giocati al meglio le nostre carte, abbiamo fatto sicuramente una corsa da protagonisti ed è questo quello che conta. La squadra è super motivata, ha fatto un inizio di stagione al top, penso, e quindi cerchiamo di proseguire così. Oggi il livello è un pochino diverso rispetto alla guiglia, però come ti dicevo la condizione è buona, quindi perché no, con un pizzico di fortuna magari possiamo provare a fare qualcosa di buono. Sì, sicuramente se aspettiamo il finale gli uomini più forti di noi ci staccano di sicuro, quindi proveremo sicuramente a fare qualcosa. Ovviamente servono le gambe perché senza gambe non si va da nessuna parte, però insomma ci siamo anche noi e cercheremo di dare battaglia. A te, grazie. Grazie.